Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, oggi siamo qui per fare un trucco di San Valentino, strano, è arrivata Gigi anche a salutarvi, ci tenevo a ringraziarvi perché siamo quasi 6.600 stavo dicendo e mi è appena arrivato il ricordo su Instagram che un anno fa eravamo neanche 100, quindi grazie veramente, grazie, 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 vi voglio un sacco bene, questo lo sapete e volevo dirvi che ho intenzione di cambiare un po' di cose sul canale, ve l'ho accennato ieri su Instagram, ovvero vorrei portare il lunedì trucchi, make up o comunque cose sul make up, il mercoledì video più chiacchiericci e il venerdì i video richiesti da voi o challenge, comunque robe del genere, scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate e se avete qualche idea io sarei super felice di raccontentarle iniziamo subito mettendoci un po' di crema sulla faccia ok, successivamente andiamo col The Porefessional a minimizzare i nostri pori e con il Photo Finish di Smashbox a far durare di più il fondotinta sul nostro viso scusate, questo era Gigi, come base occhi usiamo il Camouflage di Catrice, un correttore e vado a prenderlo con un pennellino piatto a lingua di gatto e vado a metterlo appunto come base, ombretto insomma con la Beauty Blender bagnata vado a picchiettare il correttore sui miei occhi con la cipria di Nabla fisso appunto il correttore spennello e vado a prendere la Nude di Huda Beauty prendo il colore Play e il colore Teddy e con un pennello grosso da sfumatura vado a iniziare a fare la mia piega dell'occhio successivamente vado a mettere un po' di Crave anche se voi non lo vedete in telecamera perché ne ho messo poco e vado a discurire l'angolo esterno dell'occhio con Secret e con una punta di Raw vado a prendere poi il mio fondotinta di Urban Decay, l'All Nighter e vado a metterlo sul mio viso picchiettandolo con la Beauty Blender in questo modo se volete un effetto più coprente utilizzatela asciutta ma a me non piace utilizzare la Beauty Blender asciutta mi fa effetto gerone e non mi piace ragazzi per niente riprendo il correttore di Catrice vado a metterlo un po' sotto i miei occhi e il matitone di Sephora, quello per il contouring vado a fare le mie zone contouring che sapete sempre mento, naso, guance e fronte e con la Beauty Blender come sempre la mia fidata amica vado a spugnettarmi così sfumando bene in realtà in questo video non ho sfumato benissimo però voi fatelo bene ragazzi mi raccomando anche il correttore dalla parte ovviamente della spugnetta pulita se no e vado a prendere la cipria sempre quella lì di Nabla e vado a pressarla sotto i miei occhi perché veramente oggi avevo delle occhiaie bazzesche però vabbè è un po' sul tutto il viso spennello l'eccesso e vado a prendere lei la hula di Benefit ho sbagliato pennello infatti vado a prendere il pennello giusto da contouring della Zoeva e faccio un po' di contouring anche in crema io amo il contouring volevo dire polvere scusate amo il contouring in polvere soprattutto quando di giorno perché è pesante e vado a prendere un po' di Gold Rush questo bellissimo blush della Benefit e poi ovviamente il mio solito Cajal della Paradise di L'Oreal che prima o poi mi finirà chi lo sa chi lo sa ho iniziato questi video con questo Cajal che schifo vado a prendere poi il Bad Gal di Benefit sapete che è uno dei miei maschera preferiti e anche quello di Bottega Verde per intensificare ancora di più lo metto anche sotto ma voi non lo vedete sopracciglia matita 0406 scusatemi di Sephora retraibile e il Gimme Brow di Benefit adesso le scelte sono due nel senso che questo look può essere completato sia con un rosso molto intenso ma io vado di nude perché così mi andava di nude era giorno e quindi questo nude è di Make Up For Ever ed è il 109 mentre il rosso era il solito di Rihanna Fenty Beauty Uncensored e voilà il trucco è finito spero vi sia piaciuto vi mando un grossissimo bacio mentre me la tiro e niente ci vediamo al prossimo video raggi di sole diamo tanto ciao